L'intervento di Tutor sono Monica D'Arbusi e Paolo Tommasetti, i quali hanno curato il progetto formativo Il mare, un laboratorio di biodiversità, lo studio delle connessioni biologiche. E l'istituto che ha partecipato a questo percorso formativo è l'istituto Nardo Rodolini di Bertin Ponezia. Siamo a Ponezia nel polo industriale. Siamo a Ponezia nel polo industriale chimico-farmaceutico. L'istituto è da 50 anni, l'inizio è cresciuto, insieme al polo industriale abbiamo i corsi di chimica, biologia e meccanica, ovviamente. Facciamo da tanti anni tirocivi con l'industria e vi racconto una piccola storia. Due minuti che rubo ai beni protagonisti della giornata. Siamo vicinissimi ai laboratori dell'ISPRA, ex-APAT, di Caser Romano. E da anni abbiamo tentato più volte di riuscire a fare tirocini presso questa struttura. In tutti i modi, partendo dalla signora delle polizie, madre di un'alunna, corrompendo un direttore di servizio per l'ISPRA, non ci siamo riusciti, mai. Ci hanno detto non avete l'età, non avete la sicurezza, non avete la formazione, non siete universitari, non hanno risposto e quindi avevamo messo il cuore in pace. Poi arriva la bacchetta magica, la famosa e vituperata da molti, legge 107, l'alternanza scuola-lavoro. All'improvviso si aprono tutte le porte, non solo quelle dell'ISPRA, l'università, la grande industria, tutti ci cercano e vogliono fare attività di alternanza scuola-lavoro. Bellissimo, è stata un'esperienza bellissima e stamattina mi era venuta la parola straordinaria. Poi ci ho pensato su, dottoressa. No, non è straordinario, è normale. Lo Stato parla con lo Stato ed è ovvio che in uno Stato, lo Stato partecipa alla formazione del giovane, soprattutto se è una formazione tecnico-scientifica. Perché il giovane, forse solo in formazione, ma il giovane ha tante risorse che spesso trascuriamo nella scuola e che invece vengono poi lampanti in questi progetti. Quindi tutti abbiamo da imparare. Io scommetterei, dottoressa, che gran parte delle persone che a gennaio sono entrate qui non conoscevano l'esistenza dell'isfero spesso. Quindi lo Stato non sempre parla con lo Stato. Grazie. Grazie ai tutor, grazie a voi, grazie a... Mi hanno detto di mangiarvi il microfono, se no non si sente. Sapete che il nuovo governo ha nel programma forse l'eliminazione di questo strumento. Forse una parte della scuola non vuole questa legge, non ama l'alternanza scuola-lavoro, l'abitupera, spero che se l'accendo sia giusto, e che pensa sia soltanto un ostacolo alla didattica. Forse non è così. Lo Stato parla allo Stato. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, io volevo solamente presentare un po' i ragazzi della scuola, ringraziare molto i professori, il professor Monpreta, il professor Isto, che ci hanno aiutato, ci hanno aiutato tantissimo nel gestire il progetto, e anche a lavorare con i ragazzi, perché facciamo un altro lavoro, quindi non ho detto poi che riusciamo più di dentro, la consenzionia con loro. Per noi, per rispondere a Tiziana, io avrei usato la parola rivitalizzati, che è stato veramente una botta di vita, potremmo dire, è stato molto bello lavorare con loro, stimolante e anche di grande soddisfazione, perché ad esempio vedere i ragazzi che alla fine del progetto trovavano i vendi, i vermi, i marini, per me è stata una grande soddisfazione. Quindi è stato il massimo risultato dell'ambiente. Ringrazio molto i ragazzi, che sono stati veramente molto bravi, per ripeto stimolanti e rivitalizzanti, e anche professionalmente molto entusiasti e desiderosi di approcciarsi a questa nuova materia. Per loro l'hanno fatta la migliore dei modi, adesso vedrete con la presentazione i risultati. Ti raccomando. Allora, ci presentiamo, siamo due quarti dell'Istituto Tecnico Largo Protonino di Bometsia e siamo due quarti del corso Biotecnologie Ambientali. Il nostro istituto è diviso in varie articolazioni e oltre alle biotecnologie ambientali ci sono le biotecnologie sanitarie, il chimico e i materiali e anche meccanica e meccatronica. Questi sono i nostri laboratori. Sono i laboratori questi di chimica e quest'altro di biologia e microbiologia. Abbiamo lavorato con la sede dell'ISPRA di Castello Romano e i nostri obiettivi sono quelli di entrare in contatto con gli organismi marini, imparare i metodi per il loro riconoscimento e catalogarli ed identificarli e conservarli. E anche imparare un qualcosa sulla banca relativa alle collezioni geologiche. geologiche, scusate. Allora, il BENTOS è la categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici sia marini che di acqua dolce che vivono fissati o in stretto contatto con un substrato solido e sono indicatori ambientali in quanto danno informazioni precise sullo stato ecologico dell'ambiente e inoltre il loro studio è molto importante per il monitoraggio dell'ambiente marino poiché rendono evidenti le modifiche che avvengono nell'ambiente in presenza di fattori esterni. Sono raramente mobili e perciò questo aumenta la probabilità di una loro esposizione a fattori di stress esterni e quindi sono ottimi indicatori locali di perturbazione. Allora, sono presenti sono presenti varie fasi sono presenti varie fasi prima di arrivare a quello che è il nostro quello che abbiamo fatto noi nei laboratori. È presente il campionamento che viene o da immersione o da imbarcazione il quale quello da immersione è normalmente molto semplicemente un SUV che quindi va a prelevare il campione manualmente. Se parliamo di imbarcazione è presente questo strumento la benna il quale l'unico difetto sarebbe quello delle varie fuoriuscite delle perdite superficiali. In tutti e due casi avviene un filtraggio che elimina quindi l'impurità superficiale e dopodiché quindi viene messo tutto in un contenitore il contenitore dove è presente il conservante cioè la formalina che fa sì che non ci sia la comunicazione tra le proteine in modo tale che gli organismi quindi non denaturino. Quindi ci deve essere poi quando è il momento dell'analisi ci deve essere l'eliminazione del conservante il quale avviene attraverso quindi un imbuto molto semplicemente e dopodiché quello che rimane quindi il campione viene messo in un setaccio con dell'acqua a bassa pressione in modo tale che gli organismi non vengano distrutti e dopodiché quindi si mettono tutti in una vaschetta dove con dell'acqua e si fa quello che è lo smistamento avviene prima però un'identificazione da un punto di vista macroscopico quindi vedendo quello che è l'ambiente quello che sono se sono presenti i fari alghi o fibre rosse e poi da un punto di vista microscopico quindi dividendo tutte in quattro capsule dove si dividono quindi a seconda di quelli che sono i vari film dopo i processi di sorting e smistamento abbiamo quello di identificazione di una specie il primo passaggio per questa identificazione è l'osservazione microscopica del campione che abbiamo e dopodiché andiamo a utilizzare delle chiavi dicotomiche presenti su delle pubblicazioni scientifiche specializzate fatto ciò tentiamo di dare un nome alla specie confrontando le immagini presenti su queste pubblicazioni con il nostro campione reale per l'identificazione questi campioni vengono divisi in quattro gruppi chiamati taxon composti da molluschi policheti echinodermi e crostacei i molluschi appartengono al film dei mollusca e comprendono circa 110.000 specie i policheti appartengono alla classe degli anellidi e comprendono circa 13.000 specie gli echinodermi appartengono al film echinodermata e comprendono circa 6.000 specie mentre i crostacei appartengono al film degli artropoda e comprendono circa 50.000 specie i molluschi sono primariamente marini anche se alcune specie tra cui i gastropodi e i bivalvi hanno colonizzato ambienti anche d'acqua dolce il termine molluschi deriva dal latino mollus che in quanto sono animali che non presentano un endoscheletro e hanno infatti un corpo muscoloso circondato da una struttura esterna che funge da supporto detta appunto conchiglia il loro corpo è suddiviso in capo e tronco il tronco è formato da un muscolo ventrale detto chiamato piede che serve per la locomozione esternamente invece è presente un mantello che circonda la conchiglia calcarea e la struttura boccale invece è costituita da piccoli dentelli che servono appunto per triturare il cibo e questa tipica struttura è detta radula e inoltre nelle seguenti slide potete vedere i diversi molluschi che abbiamo identificato e abbiamo attribuito a ciascuno il genere e la specie i crostaci come detto precedentemente appartengono al film degli artropoda e contano circa 50.000 specie il loro corpo è racchiuso in un esoscheletro che è racchiuso in un esoscheletro che comprende è diviso in tre parti il corpo l'addome il torace il capo il gruppo più famoso dei crostaci è appunto come quello che vedete in foto il gruppo dei decapodi i decapodi hanno 10 zampe toraciche di cui due con l'evoluzione si sono trasformate in chele inoltre hanno due appendici frontali chiamate antennule la parte più importante per l'identificazione dei crostaci è il carapace il carapace è un fatto di sali di sali che praticamente racchiude alcuni segmenti toracici è utile per l'identificazione perché molti presentano questa struttura però ci sono anche alcuni che non la presentano quelli che non la presentano vengono distinti in base alla loro forma sono compressi dorso-ventralmente oppure compressi lateralmente quelli compressi dorso-ventralmente ad esempio i granchi mentre quelli compressi lateralmente ad esempio i gamberetti quelli con il carapace vengono distinti invece in base a quanti segmenti toracici sono fusi con il carapace se il cavo e alcuni segmenti toracici sono racchiusi con il carapace si ha una prima distinzione mentre se sono tutti i segmenti toracici e il cavo si ha un'altra distinzione in questa slide potete vedere un crostaceo identificato da noi che è l'Elasmopus che praticamente non ha il carapace e è compresso dorso-lateralmente in basso potete vedere le unità di misura che ci sono servite appunto per l'identificazione quest'altro crostaceo è l'Eptognazia che è compresso dorso-ventralmente e anche qui le dimensioni ci hanno aiutato ad identificarli meglio in seguito abbiamo i policheti che come abbiamo già detto comprendono circa 30.000 specie e sono degli esseri metamerici cioè che hanno tutti dei segmenti che comprendono due appendici che sono detti parapodi il loro corpo è diviso in quattro parti il prostomio il peristomio il tronco e il pigidio di cui il prostomio e il peristomio compongono il capo in cui compongono il capo in cui nel prostomio possiamo riconoscere gli occhi e nel peristomio eventuale bocca sesto-fressa i policheti possono essere divisi in erranti e sedentari i policheti erranti sono coloro che si muovono liberamente nel territorio mentre quelli sedentari sono coloro che vivono all'interno di strutture chiamate i tubi che costruiscono loro stessi e all'interno di questi tubi i policheti riescono a muoversi grazie ai parapodi che grazie al movimento del corpo si attaccano e quindi garantiscono movimento in seguito abbiamo dei dei policheti che siamo riusciti a identificare noi come per esempio le unicide che è uno dei policheti più semplici identificati poi abbiamo dei vermicani sotto che sono dei policheti più grandi rispetto agli altri e non li abbiamo identificati di noi perché erano già presenti all'interno del laboratorio ISPRA in quest'altra strada abbiamo esclusivamente policheti identificati da noi come per esempio il filodocide in cui si possono notare i due occhi e la bocca estroflessa e si possono identificare bene i segmenti ben distinti e i parapodi poi abbiamo il sillide in cui si possono riconoscere molto bene i quattro occhi il terebellide in cui sono mostrati molti tentacoli sulla punta del capo e poi abbiamo il polinoide in cui possiamo rivedere i due occhi e una bocca che non è presente perché è insoflessa gli chinotermi sono una classe di invertebrati caratterizzati dalla presenza di uno scheletro formato da placche calcare spinose queste spine vengono usate come mezzo di difesa e inoltre sono dotati di un sistema acquifero singolare e collegato con dei canali gli chinotermi sono diciamo sono caratterizzati dalla presenza di una struttura esterna pentamera e una simmetria radiale apparente alcuni esempi possono essere gli astropecten spinulosus chiamati semplicemente stelle marine o delle stelle serpentine e dei ricci di mare come le chinosciamus fusillus e anche dei cetrioli di mare il nostro scopo finale è quello di ottenere una collezione zoologica rappresentata da una racconta di tutti i campioni che abbiamo identificato alla fine di tutte le identificazioni abbiamo il compito di scrivere di completare una scheda in cui andiamo a indicare le varie caratteristiche di questo campione come ad esempio la provenienza oppure il nome che abbiamo dato e eventuali foto o disegni ringraziamo tutti i nostri tutor il tutor tra Monica Tarduzzi e Paolo Tomassetti e i nostri tutor scolastici il professore di compresa Izzo ringraziamo anche voi per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata grazie grazie Grazie. 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 Sono Sara, vengo dalla scuola Largo Brodolini di Pomezia e da piccola ho sempre sognato di lavorare come biologa marina e infatti sono molto contenta di essere qui. Oggi penso osserveremo al microscopio i diversi organismi che Paolo prima ci ha spiegato. Sono Federico Tridici, vengo dall'Istituto Largo Brodolini di Pomezia e sono molto contento di essere stato scelto per fare questo stage di alternanza scuola lavoro e mi piacerebbe lavorare come biologo marino. Ciao, sono Andilo Ferriello dell'Istituto Largo Brodolini di Pomezia e sono molto felice di essere qui e anche molto interessato a questo corso di alternanza scuola lavoro perché in futuro vorrei diventare un biologo marino. Perché adoro, mi piace molto l'ambiente marino e quindi è anche tutta la biodiversità che c'è nel mare. Loro oggi hanno già cominciato la volta scorsa e continuano ad osservare al microscopio, divisi in gruppi, gli organismi marini. Quindi noi siamo partiti da un campione che abbiamo realmente raccolto il mare, è stato lavato, sciacquato, è stato sottoposto poi a smistamento da loro stessi. All'interno del campione loro separano direttamente gli organismi che trovano per una successiva identificazione a livello di specie. Sono delle provette, qui ci sono due dei polichermi, poi qui ci sono dei moduschi, qui ci sono dei kinodermi, questa è una stella marina e di qua c'è un cross faccio. Stiamo a identificare gli organismi, tanto che dobbiamo prima metterli dentro la pestellina. Stiamo cominciando con la specie dei polichedi, che sono i più numerosi comunque all'interno delle acque marine. Stiamo con varie forme, in varie dimensioni, c'è stato trovare in vari combattori, più zampe, più lunghi, più verti. Quindi loro sono stati molto bravi, hanno riconosciuto gli organismi principali che c'erano all'interno e adesso con l'aiuto anche degli altri ricercatori riusciamo ad andare avanti e arrivare qui nel livello di specie. Sempre facendo di lavorare al microscopio e facendo una sessione qui con la telecamera che gli consente poi di vedere tutti quanti i caratteri che vogliamo farli vedere. Quindi facciamo l'anteprima di come siamo fatti i movimenti. Grazie a tutti. Grazie.